che domani Giovanni Paolo II diventa santo, ecco è bello pensare a quanti santi beati lui ha fatto più di tutti gli altri papi nella storia della Chiesa, ecco quindi proporre la sua santità, ecco fatta anche di ferialità, di piccole cose. Io ho un ricordo molto bello qui in questo palazzo che ci sta di fronte perché il Papa la sera cenò con poche persone al tavolo dell'arcivescovo e io non ero tra quelli, perché i posti erano pochi. Ricordo che Monsignor Stanislao a un certo punto venne da me che ero nell'altra saletta con il seguito minore e mi disse tuo posto è di là, non dico il mio posto, qui c'è il mio nome e lui scambiò il suo nome con il mio, ecco questa grande gentilezza che mi permise di stare anche quella volta accanto a Giovanni Paolo II.